Ciao amici, oggi parliamo dei tamponi salivari e dell'esperienza che la Lega ha voluto introdurre nella Regione Marche. Grazie all'assessori regionali Giorgia Latini, istruzione, e Filippo Saltamartini, sanità, la Regione Marche fa da apripista rispetto all'introduzione dei tamponi salivari per docenti e studenti, tutti a scuola, in totale sicurezza, per dimenticarci la DAD. I tamponi salivari infatti costano meno di quelli nasali e sono assolutamente meno invasivi. C'è un solo problema però. Ad ora non vengono ancora riconosciuti, malgrado l'Istituto Superiore di Sanità li abbia classificati totalmente sicuri. Ma non solo nelle Marche, perché la Lega porterà questa proposta anche alla conferenza Stato-Regione e in Parlamento. Intanto, nella Regione Marche, grazie alla Lega, si sta eseguendo la procedura per l'acquisto di questi 500.000 tamponi salivari che permetteranno a ragazzi e professori di essere totalmente sicuri, effettuando così degli screening di massa che permetteranno a tutti di evitare eventuali focolai. Ancora una volta, quindi, viva il buon senso e dalle parole ai fatti. Ciao!